Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare della sella Rally H3D Moto. Questa azienda modifica la sella originale della moto con una spugna più soffice e una copertina sella che è caratterizzata dalla tasca portadocumenti, portatabella, tabella dei controlli orari, una parte inferiore leggermente imbottita per i trasferimenti più lunghi o le zone dove si arriva a velocità più alte, quindi il trasferimento di peso nella parte posteriore con i rilievi per ottenere un po' più di oderenza e nella parte posteriore abbiamo un ricamo in rilievo H3D che impreziosisce il tutto. La parte laterale dove c'è lo scorrimento delle gambe è in un tessuto similcarbonio e quindi abbiamo la parte superiore insieme alla caltara impermeabile e resistente alle abbrezioni mentre nella parte laterale che è la zona dove si striscia di più tenendo stretto la moto con l'interno coscia è più liscia, meno ruvida e appunto permette uno scorrimento maggiore. Ho scelto di modificare la mia sella originale KTM per un motivo che appunto dopo diversi chilometri a sedere mi ritrovo con il culo ridotto come quello di un macaco e quindi se anche voi volete modificare la vostra sella originale in una sella rally vi consiglio di contattare H3DMoto lascio il sito in descrizione e la mail con le caratteristiche peraltro in questo periodo c'è anche un'offerta per la modifica con questo è tutto vi ricordo di lasciare un like se avete apprezzato questo video e condividere il più possibile ciao a presto da Michele